Basta! Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 13, numero 13 si chiama Daniele e ricordiamo nel fantastico mondo dei cavalieri. Il cavalieri per un risultato. Questa volta però con essere in Italia Sussi, è un altro cavalieri. E fate forte l'applauso, perché dai cavalieri dell'Italia Conti, numero 13, Daniele, ci presenta Fenix! Grazie a tutti! Grazie a tutti!